Namaste, io sono Ace Brave e bentornati ad un altro episodio di Dare Ludum Dare, la rubrica settimanale che questa settimana arriva leggermente in ritardo, che vi mostra un gioco diverso dal solito. Questo gioco me l'avete consigliato voi ed è Escape Character. Ne parleremo breve, se avete altri giochi qua sotto consigliatemene perché così posso vederli, arrivare in ritardo perché questa settimana non ho avuto il tempo in materia di registrare, ed eccoci qua con Escape Character. Questo è dell'ultimo Ludum Dare che aveva come tema che tutto il gioco dovesse essere sullo stesso schermo, quindi come Bad Song che abbiamo visto un po' di tempo fa o come il 90 Minutes Portraits che avete visto che tutto era sullo stesso schermo. Anche questo è tutto sullo stesso schermo, o meglio, tutto sullo stesso sullo stesso desktop a conto pare. Escape Character che cos'è? Noi ci possiamo muovere con le freccine e siamo quel personaggino che vedete là. It's dangerous to go alone, take this. Dobbiamo prendere la freccina, è una citazione di Zelda ovviamente quella, e prendiamo la freccina che possiamo guidare con il mouse, quindi possiamo muoverci e attaccare con il mouse stesso. Quindi possiamo cliccare qua sotto, vedere che questa è l'ora in cui sto registrando tra l'altro effettivamente l'episodio. Abbiamo un tasto di start qua, che non possiamo premere, abbiamo un readme. Proviamo a vedere cosa c'è dentro. Ciao sono l'architetto e sei della tua nuova casa. Per favore rimani qua per sempre, se hai altre domande questo è il mio indirizzo. Il gioco è stato creato da zii e appunto giustamente dice grazie e bene bene bene. Se vogliamo chiudere abbiamo qua la x e quindi è un gioco ambientato su un desktop. vediamo nella cosa privata che cosa c'è. Non dovresti essere qua, bene, cerca di non toccare niente, fai il bravo file, non toccare niente, noi possiamo andare sulle opzioni perché non siamo dei bravi file, togliere il firewall e anche mettere fuori i cookies. Quindi vediamo che cos'è questo file qua, quindi doppio clic per vedere il resto. Congratulazione hai passato il test. Adesso c'è la cartella, anche se c'è scritto cartella lì privata. Cerca di non fare troppo casino. Vediamo che cos'è dentro i cookies se troviamo i biscotti. Ah, i biscotti a quanto pare sono dei nemici. Quindi vediamo di attaccarli. Cancelliamo i cookies. Mori anche tu. Quei cuori che vedo lì probabilmente della nostra vita. Ok ce l'abbiamo fatta e grazie a questa cosa che cos'è che abbiamo? Show artwork, show me some more love. Yeah, abbiamo more love. Heartful is... ok questo qua ci serve per eventualmente se ci hanno fatto male ma non c'è nessun problema. Quindi andiamo qua e abbiamo la cartella artwork. C'è un firewall anche qua. Vediamo un po' che cosa possiamo. Abandon all hope. Possiamo togliere le speranze... non... disattivo il togliere le speranze. Quindi appunto abbiamo le speranze attivate. Do you think... pensi che ci sia qualche qualche speranza di uscita? Io ho fatto questo gioco. Io ho fatto te. Ci ho messo 72 ore per farlo giustamente. Please fill out the survey. Ok dobbiamo fare il survey ovvero la... il sondaggio che c'è sul desktop. Quindi vediamo di tornare indietro. Ci sono altre opzioni qua? No. Ok quindi andiamo sul desktop a fare quella cosa. Questo gioco è fantastico. Questo gioco fa schifo. This is wonderful. Disable quickie of firewall. This is wonderful. Allora vediamo un po'. Cosa possiamo fare di questo. Questo gioco è fantastico. Si. I will drive to something else. La musica mi piace. E zii è fantastico. Ok. Quindi andiamo a vedere se nel... Qui ci sono... dentro quickies. Uh aiuto 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 aiuto. Adesso possiamo andare qua dentro. Che appunto si è disattivato. Ho attirato il... il... aiuto. Ok. Il firewall anche qua. Quindi continuiamo ad attaccarli. Ok mori mori. Non mi fanno male perché non mi colpiscono con i lati. Con gli angoli scusate. Esatto. Adesso mi ha fatto male perché ho tolto mezzo cuore. Ok. E ce l'abbiamo fatto a uccidere anche i quickies. Show final folder. Show me some more love. Possiamo curarci. l'ambinatore segreto. Possiamo ritornare sul desktop. E nella cartella texture che cosa possiamo vedere. Possiamo vedere hero. Che sono io. Possiamo vedere cookie. E così potevamo vedere in anticipo che i quickies sono un altro tipo di nemici. PNG da aprire. E torniamo un attimo sul desktop. Abbiamo la cartella the end. E questo ce l'abbiamo fatta a finirlo. Quindi... questo era un gioco molto breve ma molto interessante. Che vi mostra appunto come si può giocare con il desktop. Semplicemente con un sistema operativo. Il gioco è molto semplice ma è proprio il bello dell'entrare e uscire dalle finestre che è molto carino. Mi ha ricordato molto quelli che sono vari giochi... scusate vari filmati che ci sono stati ad esempio gli animator contro animation. Che è una serie di piccoli filmati molto carini e molto interessanti. In cui c'è uno stickman protagonista in quel caso. Ed è un gioco molto molto carino questo. Ok. Ma appunto va su questo concetto. Mi piacerebbe vedere di più. E mi piacerebbe soprattutto vedere i vostri commenti a riguardo di questo gioco. Ma soprattutto andate ad esplorare lo Dundara e tutte quante le piattaforme che volete per consigliarvi un gioco diverso dal solito. Io come al solito sono East Brave. Namaste and be brave!